Erranova, Montanari, Brani, Colabello, Maurizio, Parpaglioni, Ascani, Modoni, presente a Corinti, assente, io, presente, milioni, presenti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Siamo a cominciare, buongiorno a tutti, riprendiamo con l'elaborazione del documento condiviso, del terzo coordinato, eravamo arrivati, cominciamo con l'articolo 15, giusto? Sì, giusto. Ok, allora l'articolo 15, io ho notato che i primi due commi potrebbero essere direttamente sostituiti dai commi 6 e 7 dell'articolo 27 dello Statuto, quale recita il Consiglio del Municipio, vi leggo il comma 6 dello Statuto, il Consiglio del Municipio è preseduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta, il Presidente del Consiglio rappresenta l'Assemblea Municipale, al Presidente del Consiglio e al Municipio sono attribuiti di poteri di convocazione e direzione di lavori, nonché la disciplina delle attività del Consiglio. Il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consigliari e, singolarmente, al di consigliere ai consiglieri municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio e al Municipio è coadjuvato da un ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente e da due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie e parimenti eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Questo è il comma 6. Poi, io metterei anche il comma 7, cioè l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio e del Municipio, avviene con le modalità previste dall'articolo 18, commi 7 e 8 dello Statuto per i Vicepresidenti dell'Assemblea Capitolina. Ora, se poi voi andate a vedere i commi 7 e 8 dell'articolo 18, in realtà sono i commi 3 e 4 che sono presenti nell'articolo 15. Quindi, io farei così, l'1 e il 2 lo sostituirei con i commi 6 e 7 dello Statuto articolo 27. I commi 3 e 4, naturalmente c'è il rimando chiaramente all'articolo 7, ai commi 7 e 8 dell'articolo 18, però i commi 3 e 4, io ho visto, sono presi proprio come stanno riportati poi lì nello Statuto. Quindi, secondo me i commi 3 e 4 si possono lasciare, così come sono, questi è rosso praticamente, l'elezione del Presidente avviene senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede, ciascun consigliere può votare un solo nominativo, risulta eletto il consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio Municipale. Nella stessa seduta successivamente, il Consiglio Municipale elegge, con la procedura prevista dal precedente coma, i due vicepresidenti con un'unica votazione. Ogni consigliere può votare per un unico nominativo e risultano eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero dei voti. Allora, Socio, questa giunta nel vecchio, cioè nella bozza che abbiamo detto, è indicata a una tempistica nell'elezione del Presidente, nel corso della prima seduta successiva alle consultazioni elettorali, immediatamente dopo la convalida degli eletti, che invece nello statuto non compare. Allora, questo è giusto, bravo. Lasciato. Potremmo, è vero che la prima seduta non si intende altro che quella, però siccome è una cosa in più, in questo caso sia, e soprattutto immediatamente dopo, altrimenti si potrebbe creare una fase di interregno per cui magari dibattiti, richieste varie. Quindi vuoi dire di eliminare proprio completamente l'immediatamente oppure… No, no, però la prima seduta è valida successiva alla, perché paradossalmente ci potrebbe essere una prima seduta che non è valida. Infatti, attenzione, però… Non si presenta più della maggioranza dei consiglieri. Però al comma… Vabbè, quello però fa una caratteristica della seduta, cioè una seduta è valida o meno in base, cioè quella che… Anche perché, però, se noi lo sostituiamo col comma sedia d'articolo 27, infatti parla che il consiglio del municipio è preseduto da un presente letto tra i consiglieri nella prima seduta, punto. Quindi credo che dia sottenteso a questo fatto che sia ovviamente la prima seduta valida. Esatto. Cioè, quindi noi in realtà… No, se si ha preso la validità siamo d'accordo, perché attenti non può… Eh. Io c'avevo un'altra osservazione. Ok, allora facciamo… No, no, finisci perché poi ce li aggiungi… Eh, sì, allora no, direi, allora, cioè, io farei, come ho detto, allora, il comma 1 e 2 dell'articolo 15 lo sostituirei con i comma 6 e 7 dell'articolo 27, ok? Sì, però va bene solo su quella questione dell'immediatamente dopo… No, ma l'immediatamente viene proprio… cioè, non c'è proprio questa… Ah, tu dici immediatamente… Ah, ok, scusa, non avevo capito. Io invece devo dire una cosa riguardo al comma 6 dell'articolo 27, che abbiamo detto di sostituire qui dice… Presidente del Consiglio, la seconda frase, il comma 6, rappresenta l'assemblea municipale, sono attribuiti poteri di convocazione, eccetera, questa parte qui è espressa nel nostro regolamento all'articolo 16, tra le funzioni, quindi non so se sostituirlo adesso nell'articolo generale che parla di Presidente e Vicepresidente adatto, oppure si lascia nella parte più specifica dedicata dopo. L'articolo 15 è Presidente e Vicepresidente del Consiglio Municipale, teoricamente bisognerebbe indicare esclusivamente le modalità con cui vengono nominati, basta. Se poi c'è un articolo che è funzione del Presidente del Consiglio, tutte le prerogative del Presidente del Consiglio e di conseguenza dei Vicepresidenti, vicari e non, vanno attribuite dell'articolo 16, quindi io il 15 lo sentiticherei. Ah, sogliendo anche il comma 5, dici? Ma diciamo che quello può anche essere lasciato… E quando parli dei prerogative, dice Lutino, non stare tutte insieme. Le prerogative devono stare tutte insieme, mentre Presidente e Vicepresidenti cosa li caratterizza e come vengono eletti. E perciò sta bene, il 5 sta bene l'acqua. Vabbè, in caso di assenso a temporanei per i menti del Presidente le sue funzioni sono e come si era il Vicepresidente, diciamo che può stare lì o anche solo, insomma. Dici, io no, io tra l'altro, scusate, poi sul comma 5, adesso ce l'avamo fermati ai primi 4, questo sul comma 5 io in realtà, dunque quando parla, anzi il comma 6, il 5 va bene, il comma 6 poi dice in caso di dimensione si rimanda al comma 5 dell'articolo 17, in realtà io questo comma 6 lo tramuterei, cioè io riprenderei come i commi 4 e 5 dell'articolo 17, se voi andate dietro dove parla dell'ufficio di Presidenza, allora, quelli rossi il 4 e il 5, io il 6 lo farei diventare il 4 e il 5, in logico rimandata a Parmenia, ovviamente qua. Sì, allora, però andiamo con ordine perché se no poi dopo una la stasura... Però il 4 prevede l'ufficio di Presidenza che non è stato trattato dell'articolo lì, poi dopo vai a prevedere una cosa che non è... Presidenza è disegnato proprio dall'articolo 17, forse il richiamo per questo è stato fatto lì. È vero, cosa è che... Tra l'altro nell'articolo 17 c'è anche un errore perché dice che nei casi previsti dal comma 5 che sono già in coda da 5... Sì, no, è quello che guarda... Se è messo qui è sbagliato, se è messo dall'altra parte è giusto, se è messo dall'altra qua è giusto che poi nei casi... Allora, io la stasura 17 lo lascerò così perché sono tutte le funzioni del vicepresidente e del vicepresidente anche, quindi se lo lascerai lì. Il 11 può andare bene la modifica come hai proposto tu, il 6 e il 7, io solo il comma 6 aggiungerei immediatamente dopo il compagno degli eletti. Allora, aspetta, facciamo un epilogo proprio di come viene questo articolo, così altrimenti perché sono diverse modifiche. Allora, praticamente il comma 1 dell'articolo 15 viene sostituito dal comma 6 dell'articolo 15. Quindi scusate, ci lasciamo tutta la roba, assicuro un'adeguata preventiva informazione e tutto il resto? Vi sembra adatto metterlo lì subito? Io quello lì lo metterei nell'articolo 16 tra le funzioni, cioè lo dicevo. Io ci penserei un momento perché... Allora, se ho appiccicato così... Sì, no, quello forse è il meglio, non hai ragione, Maurizio. Che? Il meglio forse è quello, la parte... Rappresenta... Rappresenta l'assemblea municipale, eccetera, quello lì... Convocazione, assicura... Sono funzioni del presidente, che qui nello statuto ovviamente è sintetizzato, quindi è tutto accorpato. Se noi abbiamo un articolo che prevede le funzioni, quelle sono funzioni. Continuo a dire che nell'articolo 15 vanno inspeglie esclusivamente le modalità di no. Allora, questo va d'orto, del presidente e vicepresidente, visto che c'è un articolo dedicato alle funzioni. Allora, questo qui, allora, a questo punto lo riscriviamo proprio perché, altrimenti... Il compadrimo si può lasciare così, di questo articolo 15. Pure la parte finale del comma 6 si può aggiungere, con l'assorbimento delle prevenzioni, il presidente è attualizzato dall'ufficio di presidenza, quello pure ammesso perché riguarda la figura del... A meno che non lo mettiamo qui. Poi c'è l'ufficio di presidenza, c'è l'articolo 17, c'è l'articolo 17, c'è l'articolo di presidenza, ma primo da questo, lo possiamo quello, lo chiamate, trasformare in bomba dell'articolo 17, forse. In realtà questo poteva anche essere un unico articolo, però abbiamo scritto l'assumino, 17, c'è il vicepresidente Monti, sì. Vittorio che è entrato dal punto. Ha messo il punto. Ha messo, ora ci ha messo a segno, perché già è messo. Bene, bene, bene. Allora, se allora facciamo così e mettiamo soltanto questo, sostanzialmente allora, articolo 15, il comma 1 si lascia, il consiglio del municipio è preseduto da un presidente eletto dall'Assemblea del proprio seno nel corso del... Quello che abbiamo detto prima, l'altra volta? Immediatamente dopo la convaglia di chiedere. Prima seduta, avveliamo successiva le consultazioni elettorali, fatto. Allora, Natti. Hai detto che posso sfidere tutto con l'altro articolo? No, ma no, perché è molto più articolato. Cose non omogenee, comunque. Io lo scrivo. Lo scrivo a Patrizia, perché non ce l'abbiamo ufficialmente, non direi che... Va bene, ciò che insegna. Allora, quindi allora rimane, il comma 1 rimane così, il consiglio del municipio è preseduto da un presidente eletto dall'Assemblea del proprio seno nel corso della prima seduta? Immediatamente dopo la convaglia degli eletti. Successiva le consultazioni elettorali è ovvio, farla prima delle consultazioni non... Immediatamente dopo la convaglia degli eletti, già ci sta scritto. Immediatamente dopo la convaglia degli eletti perché... Sì, ma non il primo passo alle convaglia degli eletti. No, le diamo la parola successiva alle consultazioni elettorali, quella parte è inutile. Allora, quindi questo viene. Il consiglio del municipio è preseduto da un presidente eletto dall'Assemblea del proprio seno nel corso della prima seduta immediatamente dopo la convaglia degli eletti. Punto. Questo è il primo comma, siamo tutti d'accordo? Sì. Approvato? Sì. Così, è andato. Benissimo. Poi, il 2, per l'assolvimento delle proprie funzioni il presidente è codificato da due vicepresidenti di cui uno con funzione vicare e parimenti eletti tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Va bene, questo pure va bene. Almeno che, scusate tanto, potremmo dire che insieme compongono l'ufficio di presidenza, visto che poi stavo leggendo adesso l'ultima frase del comma 6, una cosa del genere perché se andiamo a leggere l'ultima frase del comma 6 dello statuto, l'articolo 27 è uguale, soltanto dice per l'assolvimento delle proprie funzioni il presidente del Consiglio è codificato da un ufficio di presidenza, composto da, e poi il resto è tutto uguale, uno con funzioni vigarie, parimenti eletti, eccetera. Quindi o facciamo qui un accenno all'esistenza di questo ufficio di presidenza che poi andiamo a spiegarne nell'articolo 17, magari. Allora qui aggiungerebbe, alla fine... Per me va bene. Sì, va bene. Aggiungiamoci che resta la parimenti eletti. Quindi allora, parimenti eletti dai consiglieri nella prima seduta del Consiglio, mettiamo una virgola a questo punto, che compongono l'ufficio di presidenza. Vediamo in italiano come viene. Ma io lascerei il punto e metterei il... Il presidente e due vicepresidenti compongono l'ufficio di presidenza. Il presidente e due vicepresidenti compongono... l'ufficio di presidenza. Non possiamo... Beh, ma basta togliere il primo poema e l'articolo di testa che stai facendo. Sì, va bene. Invece la di presidenza. Ma questo era invece l'articolo 5. Poi? Poi abbiamo detto di ricopiare l'articolo 7 e 8. Allora, ecco, questo qua... No, però diciamo, siccome il 3 e il 4 sono praticamente copiati dal 7 e l'8, allora o rimettiamo il 7 e l'8 oppure lasciamo così il 3 e il 4 come stanno? Perché i 3 sono uguali, no? Sono uguali, diciamo così. No, ma infatti... Questa parte in blu è uguale. No, ma io infatti ho fatto... Vado a notare che appunto il 3 e il 4 sono un'espressione del 7 e l'8 dello statore. E allora... Questo dicevo... Si possono probabilmente lasciare così il 2. Ok, adesso andiamo al comma 5. Comma 5, questo qui lo lascerei così? Questo è, diciamo che è dubbio la collocazione di questo comma, perché in realtà potrebbe essere anche inserito nell'articolo 16 perché è relativo alle funzioni. Che dice proprio che il caso del senso del corale deve mettere le sue funzioni. Se ci abbiamo un articolo che sono le funzioni, probabilmente è più gusto metterlo lì dentro. Allora... A valle della descrizione delle funzioni. Si, forse è proprio alla fine... Alla fine, no? L'ultimo comma dell'articolo su funzioni. Allora, quindi questo qui il 5 lo sposteremo... Ah beh, certo, ho metto l'articolo 16. Sono in fondo, prima di quell'articolo, prima del 4C, prima di questi qua, eh. No? Quello qua qua, diventa il 4. 3 bis. No? Si. La prima dei stati 2. No, ma quello è l'ufficio di presidenza. Quello è l'ufficio di presidenza. Questo qui il dubbio. Qui, qui in fondo. Alla fine è quello. 8 e 4. E allora, questo altro perché? Allora, quello dice in caso di... Allora, qui ti dice in caso di assenza e qui ti dice in caso di dimissioni. So, le 3 ipotesi possibili. Cioè, devono stare comunque tutte insieme. Allora, se metti questo qua, in caso di assenza, ti metti anche in caso di dimissioni. Però lì si parla del... In caso di dimissioni, decesso impedimento, è un ruolo comunque dell'ufficio di presidenza che procede all'elezione, no? Invece lì è proprio soltanto il vice che assume le funzioni temporanee in caso. Non dico buttavolo avanti. No, no, era per renderlo ordinario. Forse viene meglio alla fine dell'articolo sulle funzioni. Eh, direi di sì, mi sono capito. Se proprio viene utilizzata la parola funzione per no... Ho capito, lo volete mettere, tutto, il comma 5 lo volete mettere all'articolo 6. Allora, il 5 e il 6 lo lasciamo un attimo allora in bilico. Invece il 6 abbiamo detto lo cancelliamo proprio. Abbiamo detto di lasciarlo in bilico, vabbè. Ah no, scusate, non avevo sentito. Se il 6 lo lasciamo poi dall'altra parte all'articolo. Abbiamo detto che l'hanno ricopiato. E due i rubi dell'anno. In caso delle divisioni, certo, c'è già un nell'articolo di Cassetta. E lei, quindi, il 6 lo eliminiamo proprio. Sì, allora, 5 lo spassiamo, il 6 lo eliminiamo perché... State qua, direttamente. Sì, è già scritto in un altro articolo. Solo che se lo mettete qua, direi che il 5 è qua. No, tu dici quando state qua, dici invece... Adesso quando ci arriviamo, andiamo però ricordiamoci che ci abbiamo... Il 5 è eliminato? No, il 6. Allora, l'articolo 6 del... Il 5 dell'articolo 6. Il comma 6. No, il comma 5 dell'articolo 15 viene spostato come comma ennesimo dell'articolo 16. Adesso dico ennesimo perché dobbiamo vedere un attimo i primi 4 se rimangono tali. Certo. Tendenzialmente dovrebbe andare qui sotto. In teoria dovrebbe andare lì sotto. L'articolo 6 invece viene tolto perché è ridondante. È soppresso. Fa un rimando che c'è a me. Sì, esatto. Già c'è una parte dell'articolo 17. Allora, andiamo avanti al secondo punto con l'articolo 16. Allora, il Presidente rappresenta l'Assemblea, convoca il Consiglio e anche mediante l'ausilio dei due Vicepresidenti, esercita con imparzialità ed equità poteri di direzione dei lavori, nonché di disciplina dell'attività del Consiglio. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consigliari e singolarmente alle consiglieri e ai consiglieri municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Due, il Presidente cura i rapporti del Consiglio Municipale con il Presidente e la Giunta del Municipio, gli altri municipi, gli organi e gli uffici di Roma Capitale, l'organo di revisione economico-finanziare. Ecco, qui il difensore civico era da toglie perché mi sembra che il difensore civico… È stato soppresso a Roma. Il difensore civico è stato seguito da Codacon. Hanno fatto un accordo di programma l'altro anno con Codacon. Sono due le cose. Se non lo faccio a Codacon, io condivido che siccome il difensore civico è stato istituito, non è stato mai, come dicevo, nei municipi non è stato mai messo in grado di partire perché manca il personale, manca… A questo punto la cosa più logica è che soprattutto nel municipio, visto che questa figura manca, si debba procedere con l'affidamento, con questa funzione, a un'associazione… come dire, noi all'altro anno ci abbiamo avuto uno che ci ha chiesto lo sportello per fare la conciliazione, è un avvocato. Facciamo un'altra cosa, o facciamo un bando perché lo gestivo, o lo dai a Codacon se che lo fa delle due… come dice ormai per il mestiere, come libera fa queste cose… io credo che siccome il difensore civico non c'è più, la funzione però deve rimanere, la funzione che svolgeva il difensore civico, cioè c'è un posto dove i cittadini a cui fanno riferimento, non può essere l'ultimo per queste e quell'altro, i centri di conciliazione, secondo me il ruolo deve rimanere, non lo svolgere il difensore civico, lo facciamo per un organismo, come ha fatto il Comune di Roma. se vai sullo statuto, se vai sul sito, lo trovi. Allora, quindi tu qui lo vuoi togliere… E sostituito perché il difensore civico non c'è stata pubblica. No, allora, sostituito con qualcos'altro, dobbiamo deliberarla questa cosa, non è che possiamo mettere in un regolamento un qualche cosa che non abbiamo deliberato, Alfredo. Non ci metti il nome, puoi scrivere, allora, l'orgo di revisione economia finanziaria, restituzione aziende e l'organo di conciliazione che verrà istituito dal municipio. E qualcuno potrebbe dirti, qual è l'ora? Ah, verrà istituito. Certo, se c'è il moncellaio. Però è un regolamento che verrà istituito. Un regolamento non è. Allora posso scrivere che verrà istituito. Io toglierei soltanto di cerchi, nel senso che non lo lascerei. Infatti, possiamo essere d'accordo, anzi, siamo d'accordo sul fatto che questa decisione… Ho detto tu, adesso non ci mettiamo niente, lo istituliamo e poi facciamo il regolamento. Ma sta bene, se no diventa una manifestazione di intenti del regolamento. Il importante è che non ci sia il dipensore civico, oggi, visto che abbiamo avuto un regolamento… Infatti l'avevo tolto qua, infatti poi aspettavo… D'accordo, appogliamolo e poi quando verrà il modificio, deciderà il consiglio di deliberare… Modifichiamo l'attività. Siamo attenti alla trasparenza, alla possibilità che hanno i cittadini di approcciarsi sempre meglio all'amministrazione e penso che sarà una cosa che vorremmo fare tutti. Ma su quello… Sì, però è una questione… La vocazione civica del Codacons, dei capillamenti… No, esatto, poi perché il Codacons… C'è il Codacons, c'è i codici, c'è… Allora, chi ti va a fatto l'altranno alle mani con il Codacons, ci chiamole in alto… No, ma non è il motivo per che ha fatto le mani con il Codacons… No, per me può essere il motivo… L'importante è che… Adesso l'hai anche registrata questa cosa, quindi potrà essere usata contro di te… Ho detto, no, contro, se ci sono per presidià sul Codacons, l'importante è che si condivida la funzione… La funzione poi la segna a chi ti pare, perché chi vincere il valore… No, per me la togliamo… L'attegiamo, c'è la risura del regolamento… Dove? Dove? Le aziende e gli altri… Ah, gli altri, sì. Ok, su proposta del Presidente del Consiglio, la conferenza dei Presidenti dei gruppi consigliari può stabilire che, per la trattazione di specifici argomenti o per particolari circostanze, la donanza si tenga in luogo diverso dall'aula istituzionale. Vogliamo metterci comma 3 questo? Invece che così a capo… O no? No. Ah, tu dici di farlo… Visto che anche il testo va a capo… No? Si può essere diverso come… Che dite? Giusto così per ordine… Tanto, o scrivere 4, 5, 6… Io metterei 3… Sì, comma 2, cioè i rapporti… Ma è un altro argomento… Questo è proprio… Ma tra le altre cose, è una funzione del Presidente? Perché sì, è vero che è su proposta del Presidente del Consiglio, però poi è un atto deliberativo della funzione della… Si potrebbe entrare a capigruppo… Si potrebbe entrare a capigruppo… E visto che il Presidente del Consiglio presiede la conferenza dei capigruppo, quindi ne è parte integrante, forse è più giusto questa parte… Stiamo più avanti verso 21, eccetera… Esatto, nell'articolo 21 forse è più… Perché in realtà è una funzione del Presidente, ma in qualità di riorganismo che presiede la conferenza dei capigruppo e non… No? Allora, questo lasciamo un attimo così e vediamo allora dove inserirlo più avanti… Allora, su qui potresti riscrivere il Presidente del Consiglio presiede la conferenza dei capigruppo. Ma teoricamente, visto che questo Municipio con delibera aveva approvato e il bilancio partecipato aveva diviso il Municipio in settori, teoricamente qui ci dovrebbe essere scritto che il bilancio partecipato quando saranno in condizione di farlo, perché quest'anno mi sembra che si possa partecipare poco, nel senso che dubito che c'è proprio più dei 10 giorni per dar parere sui bilanci, unitesi per l'altro, però tendenzialmente o se abroga quella delibera che si dobbiamo per il bilancio partecipare dei settori o se ne fa tesoro, nel senso che se mantiene. E' ma perché, questo è lo dice a proposito del silenzio senso, nell'amministrazione ci spartiamo tutto… Ma c'è no… Ma c'è no… Ma perché se ne fai questa citazione, non si muoviva la cosa? No, ha ragione di indicare… Teoricamente dove sta scritto… Ma guarda che… Ma qui dove dice il Presidente… O no, la cosa dice? Su proposta del Presidente del Consiglio, come è presente può stabilire… Eh… Ma è la cosa già stabilita, che c'è stata… No, ma qui dice specifici argomenti in particolare circostanze… …e' che ha stabilito i settori e che in ogni settore… Ma io… È generica questa… No, ma io mi immagino anche la prima o la seconda seduta che abbiamo fatto lì a Santa Maria della Vietà. No, quella è la libria, lui è sempre chiede a farlo, nel senso che aboliciare le libri è l'opera più. Ma quella è solo sul bilancio, questo è in generale, qui per esempio la prima che abbiamo fatto al Santa Maria nel teatro, la seconda al Don Calabria nella Lavagna, quindi in generale. Ma è partecipato solo se non si fa nel lavoro istituzionale, perché se la facciamo qui non è partecipato il bilancio. No, ma noi in delibera avevamo scritto specificatamente, con delibera approvata da tutto il Consiglio, che dicevamo in un cibo e nei settori, e in ogni settore si incontrano i cittadini, per cui era già codificato che vai in giro e vai fuori dal municipio. e non è codificato che vuoi farlo, teoricamente l'impegno a mantenere l'affanno, poi non sai come è l'amministrazione, poi se ne fa più le cose non succede mai nulla. Però così, stiamo disegnando. Cioè tu dici che grazie a una delibera che stabilita... Mi vorrei ricordarmi che noi abbiamo fatto degli atti... No, ma adesso l'oggetto della regione di oggi è di elaborare il regolamento, non di parlar male della precedente amministrazione, quindi quello lo facciamo. Tranquillo, abbiamo tutte le occasioni che vogliamo, non è questo, no? Allora, il Consiglio dei Giovani è decaduto, no? L'altra volta qui c'era, l'abbiamo tolto perché non ci sta più, perché il Consiglio dei Giovani l'abbiamo istituito ma decadeva dopo tre anni. Per cui o lo rileggi o è già decaduto. Le delibere con le quali facevamo la divisione in settori, procedevamo a fare la divisione in settori, con le quali ci siamo dati un nome, che è il Montemario, o la abolisci e la sostituisci con altro, o vige. In questo caso, io ti dico, noi abbiamo due deliberazioni che sono vigenti, che dovrebbero, da qua non si dovrebbero poter riuscire, che mi devo dire? Però va bene, sì, ma non c'è tantissimo. Va bene, ci sarà dopo quando ti è parlato del bilancio? Allora, o mettiamo l'uomo indietro, per me è la stessa cosa. No, ma possiamo preventere del bilancio particolare. Siccome c'è stato pure qualche osservatore attento, e oltre a sentire le parolacce che io abitualmente dico, potrebbe dire, ma se si parla di queste cose, e questo stai scordando che ha fatto il bilancio partecipare, io non me l'ho scordato niente, ma dopo il 10 di... Ma nessuno ne ha detto niente, questo fatto che... Ma utilizziamo l'osservatore attento, ma se ne vado da dove? No, tra le altre cose, il com successivo, cioè il 3... C'ho l'obbligo di dirlo perché... Ma questo non scordi quello che hai fatto? No, io non scordo niente. E' un danno. Non facciamo perdere. Allora, riprendete un attimo, allora, allora... Allora, questo... E' anche noi, non ascoltiamo quello che ha fatto qui. Andiamo avanti. State caldi, che i giudizi dà la storia. Allora, quindi il 4-2, eventualmente, viene, diciamo, ridotto alla prima parte. Sì, al primo punto. Sulla proposizione, questa abbiamo detto che è più una funzione del Presidente del Consiglio, ma in qualità di organismo che presiede la conferenza di Capitura. Quindi io qui scriverei soltanto, se non l'abbiamo mai scritto da nessuna parte, il Presidente del Consiglio presiede la conferenza di Capitura. nel Pochicato, perché è una funzione del Presidente. Che dite? O è... Così, questo qui lo mettiamo loro. Esatto. Quindi... Che diventa un numero successivo del... Senti, io direi di sì, perché comunque è un... Articolo 21. Che diventa una lettera successiva della lettera G, EF, GH... Ah, ok. Del 21. Eh, sì, sì. Allora, da inserire nel 21, questa parte qui. Però qui dobbiamo aggiungere quello che diceva Maurizio, allora. Secondo me può essere adatto. Cioè, il Presidente del Consiglio presiede la conferenza di Capitura. Esatto. Anche se poi dopo, più avanti, ci sarà scritta, presieduta dal Presidente, però comunque... Tra le funzioni... Però è una delle funzioni del Presidente, non ci vedo una di male, perché è una delle funzioni... Inserire nel 21 di cosa? Del regolamento? Del regolamento del municipio. Sì, del regolamento del municipio. Quindi questa, solo questa parte tra parentesi. Siamo in questa qua su proposta. Da su proposta, poi mette, aula istituzionale. Aula istituzionale. Va inserita all'articolo 21. E adesso dopo vedremo il coma. Adesso quando andiamo avanti. Intanto, momentaneamente, marchiamo così. Poi, sempre al coma 2, mettiamo il Presidente del Consiglio presiede... Forse avevamo detto di fare un numero a parte? Cioè, un coma a parte? Basta scriverlo da qualche parte. Anche in fondo al primo coma, per esempio. Dopo un punto. Io lo stavo mettendo di seguito a... Differente, basta che da qualche parte c'è scritto. Assicura... Ecco, alla fine del primo coma. Alla fine del primo coma. Il Presidente rappresenta l'Assemblea, convoca il Consiglio, fa qui, assicura, riguarda la preventiva informazione di gruppo. Il Presidente della conferenza con il Presidente di gruppo. Allora, lo mettiamo qui. Ok. Allora, proseguiamo con il coma 3. Il Presidente promuove gli interventi e le iniziative più idonee, anche attraverso il sito web ufficiale... Le dispiace, scusate. Quindi, l'articolo 1... L'articolo 1... Il coma 1, prima era invariato. Prima era invariato. Adesso si varia. Sì, adesso si varia. Perché c'è un'aggiunta. Esatto. Ok. Poi procedere. Perfetto. Allora. Variato. Prendiamo coma 3. Il Presidente promuove gli interventi e le iniziative più idonee, anche attraverso il sito web ufficiale del municipio, per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio Municipale con la popolazione e gli organismi di partecipazione. Perfetto. Mamma 4. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio Municipale nei rapporti con gli altri organi di Roma Capitale e di altri enti pubblici, quando risulti necessario per adempiere alle competenze attribuite al Consiglio. partecipa alle manifestazioni organizzate dal municipio e da quelle organizzate da altri soggetti, alle quali si è invitato in rappresentanza del Consiglio Municipale. Perfetto. Se possiamo lavorare. Sì, non c'è cosa. Allora ce lo scriviamo in caso di assenza o temporale impedimento delle sue funzioni, sono esercitate al vicepresidente vicario, eccetera, eccetera. A questo punto mettiamo l'articolo 5. Invece dell'articolo 15 diventa l'articolo 5, l'articolo 16. Allora, questo qui lo mettiamo. La domanda di istituzione di forma, questo può aiutare anche milioni, ma si può dire invitato in rappresentanza del Consiglio, cioè io che organizzo un evento mi scelgo che viene a rappresentare il Consiglio, oppure vi dico... Forse è una persona che rappresenta il Consiglio, quale si è invitato in rappresentanza del Consiglio, cioè magari fanno un invino, immagino un'associazione, una cosa, invita magari il Consiglio, magari il Presidente... Ah, da altri soggetti, perché no? No, sul fatto che sia invitato o inviato in rappresentanza del Consiglio, però invitato... C'ha invitato, comunque... No, partece quando è invitato, quando è inviato. Se ti chiami al Gemelli perché ti invita, mica perché tu decidi che fa una cosa al Gemelli e ce la vai. Senza invitato... Però, per esempio, è caduto nella conferenza di servizio che hanno fatto molte ciocche, dove è stato invitato il Presidente, invitato, e poi il Presidente era delegato... No, ma c'è un inviato, un inviato, un delegato, un inviato, un inviato, un inviato... Eh, vabbè, lasciavamo... No, vabbè, quello poi è... Eh, ma lì perché ti dice, devi andare, no? Sì, sì. Qui parla di altri organismi che ti invitano. No, ma poi lì era il Presidente del Municipio. Certo, qui parli di altri organismi... Allora, scusate, per chiudere questo, quindi, c'è il quinto comma diventa... Allora, il quinto comma dell'articolo 15 diventa il quinto comma dell'articolo 16. Sì, sì. Allora, questi qui li abbiamo tolti da qua. Patrizio, è chiaro, quest'ultimo? Sì, scritto. No, questi rimangono, ma li sono allevati a 5. Dell'articolo 15. Perfetto. Ok. Articolo 17. Il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio Municipale costituiscono l'Ufficio di Presidenza. E' vero. Lo figuro? Eh, quello che... Niente, l'avamo scritto sopra, vabbè. Questo l'abbiamo messo... L'avamo aggiunto al comma 2. L'avamo aggiunto, sì. Questo è quello che abbiamo messo. Che fai? Vabbè, lo possiamo... Lei va? O lo leviamo? O se no lo togliamo da qui, no? Oppure lo togli... Se scrive Ufficio di Presidenza... E' più giusto che stia qua, infatti prima... Ah, dici? E fa l'Ufficio di Presidenza... Ma non è che non so se è una norma che contrasta, non è la stessa... Lasciamola, dai, lasciamo la ripetizione. E qui ce deve stare comunque, no? Ma sì, ma infatti c'è un problema, sì. È una ripetizione. Va bene. Va bene. Comma 2. L'Ufficio di Presidenza adotta le deliberazioni di carattere organizzativo, amministrativo e finanziario riguardanti il funzionamento del Consiglio Municipale e delle sue articolazioni. A tal fine formula gli opportuni indirizzi all'Ufficio del Consiglio Municipale per l'adozione dei conseguenti atti. Una cosa, siccome effettivamente è una ripetizione, però questo più che Ufficio di Presidenza sono le funzioni dell'Ufficio di Presidenza. Se noi la terminologia Ufficio di Presidenza lo mettiamo dal Presidente e Vicepresidente del Consiglio Municipale, l'Ufficio di Presidenza, e qui già nota che ci abbiamo aggiunto che il Presidente e i Vicepresidenti... Se riforma di tutto, è certo che qui diventano solo le funzioni. E quindi lei è il primo comma e c'è tutte le funzioni dell'Ufficio di Presidenza. Ah, quindi sì, qui c'è scritto Funzione del Presidente e poi Funzione del Vicepresidente del Consiglio, c'è un giocicurio l'Ufficio di Tattino, poi c'è il Borletto. Sì, perché noi non abbiamo il Presidente, ma qui al Comune c'è il bisogno dell'Ufficio di Presidenza. Allora lo togli, qui facciamo Presidente, Vicepresidenza e Ufficio di Presidenza. Cambi il titolo dell'articolo 15 e diventa Vicepresidente del Consiglio di Tattino e in realtà l'articolo l'Ufficio di Presidenza, c'è tutto. E poi ne parliamo delle funzioni, sì, è corretto. Quindi questo come diverso? Articolo 7 è Funzione dell'Ufficio di Presidenza. Allora cambieremo proprio il titolo. Sì, sono anche del 15, l'Ufficio di Presidenza lo metti sul titolo del 15, capito? Aspetta, non lo metti. Allora, il titolo del 15 diventa Presidente, Vicepresidente del Consiglio Municipale e Ufficio di Presidenza. Vicepresidenza, Vicepresidenza del Consiglio Municipale e Ufficio di Presidenza. Visto che il primo comma diventa il secondo comma, oppure l'ultimo comma dell'articolo 15. Sì, visto che abbiamo messo in ordine. Sì, è l'ultimo comma dell'articolo 15. Quindi il comma nuovo 5, perché il 5 punto qui l'abbiamo fatto, il 5 punto ci schiamo questo, il Presidente e Vicepresidente. Allora, scriviamo questa stessa frase. Allora, andiamo a schermo contano perché io sto facendo anche le modifiche chiaramente. Allora, l'articolo 15 il titolo diventa Presidente, Vicepresidente del Consiglio Municipale e Vicepresidente del Consiglio Municipale, Ufficio di Presidenza. Non ti piace Trattino? Presidente, Vicepresidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza. Ok, dopodiché, da qui torniamo al 17, giusto? No, si aggiunge un comma che diventa il quinto, che diventa il primo comma dell'articolo 17. E si può dire che si toglie l'aggiunta che abbiamo fatto al secondo comma. Allora, qui si cancella ed è fatto. Quindi, si toglie questa aggiunta qui. Esatto. Quella dovevamo dire che il Presidente e i primi Presidenti costituiscono il primo dipendente. Quella la togli da lì. Poi, quello che è adesso, il primo comma del 17 lo metti qui, al comma nuovo 5 del 15. Questa qui. C'è la stessa frase che hai scritto. Questa qua. Questa qui. Poi sta la togli da qui e la togli da qui. Questa meno. Allora. Meglio così. No, c'è un po' da uno. Vediamo. La odd. Vediamo, perché non c'è odd. Dovevamo dire una cosa. Un paio di cose sulla Polizia. Il comma 1 risposta e diventa quindi il nuovo quinto del 15. Allora, il comma 1 risposta e diventa la valuta. Sì, credo che si devono un po' di parla. Ha scritto. Di cosa parla di bene. Allora, no. Il comma 1 modificato, che già era stato modificato. Allora, mettiamo così, allora, guarda, è più semplice, Patrizia, praticamente, il comma 1 dell'articolo 17, si sposta e diventa il quinto comma dell'articolo 15. Perfetto. Perfetto. Quindi, questa è una città, questa è una città, questa è una città, questa è una città. che è una città, questa è una città, questa è una città, questa è una città. C'è una città, questa è una città. Io pure quella... C'avevo nulla di che... Ma di che... Ah, infatti sì, c'è una città. Infatti che pruto... Non c'è una città. Non c'è una città. Non c'è una città. No, è vero. Ok, allora praticamente poi riprendiamo l'articolo 17, a questo punto il comma 2 diventa comma 1. Hai cambiato il titolo? Eh certo. Ah no, come il titolo dell'Ufficio di Presidenza. Allora, l'articolo 17, Patrizia, cambia il titolo proprio dell'articolo e diventa funzione dell'Ufficio di Presidenza. Allora, a questo punto il comma 2 diventa comma 1 ovviamente, cioè nella numerazione proprio... Scala tutto di 1. Scala tutto di 1 nella numerazione, quindi questo diventa 1. Allora, l'Ufficio di Presidenza adotta le deliberazioni di carattere organizzativo, amministrativo e finanziario riguardanti il funzionamento del Consiglio Municipale e delle sue articolazioni. A tal fine, formula gli opportuni indirizzi all'Ufficio del Consiglio Municipale per l'adozione dei conseguenti atti. Beh. Ok, il comma 3 diventa 2. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno due componenti. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente Vicarico. Le funzioni di segreteria delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono assicurate dall'Ufficio del Consiglio Municipale. Ok. Poi, comma 4 che diventa 3. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, decadenza o rimozione ai sensi di legge del Presidente, l'Ufficio di Presidenza decade, salvo per gli adempimenti necessari ai fini del successivo comma e si procede all'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza. Mi piace molto come ha messo l'italiano di questo articolo. La presi? Necessari ai fini del successivo comma, gli adempimenti per fare il comma successivo, cioè ai fini del successivo comma. Anche perché poi l'Ufficio di Presidenza decade, ma gli adempimenti del comma successivo sono soltanto quelli del Vice Presidente, non dell'Ufficio. Perché qui dice, il comma 5 dice, il Vice Presidente prevede a convocare il Consiglio che si riunisce entro 10 giorni, quindi non è l'Ufficio di Presidenza, è la figura del Vice Presidente. Il Vice Presidente decade, basta, punto. E si procede all'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza? Però, sì. E si procede all'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza? Ma in realtà del nuovo Ufficio di Presidenza, cioè una volta eletto il nuovo Ufficio di Presidenza? No, perché decade e quindi bisognerà rifare tutte e tre le figure. L'Ufficio di Presidenza è l'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza è l'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza, è l'elezione del successivo comma. L'Ufficio di Presidenza è l'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza, è l'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza. Il Vice Presidente Vicario è l'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza. E poi lo togliamo, entro un'oltre dieci giorni dal verificarsi della cessazione, provvede a convocare il Consiglio. Ma io lo toglierei proprio nei casi previsti. Certo, lo devi togliere. Capito? No. Il Vice Presidente Vicario, l'hai detto prima. Entro un'oltre dieci giorni dalla cessazione, provvede a convocare il Consiglio. Ma poi di quale comma 5 si parlerebbe? Non so, perché prima stava dall'altra parte. Era questo qua. Contro il C contro il V. Era in questo caso il caso di assenza del imparamento, no? No, no. Quindi il 5 che poi sarebbe diventato 4 nella numerazione. Il Vice Presidente Vicario, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi della cessazione del Presidente, provvede a convocare il Consiglio che si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione per la retezione del nuovo Ufficio di Presidenza. Mentre, scusate, solo per incompletezza, il comma, quello prima, il 3, cioè quello che era 4 e diventato 3, è in caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, decadenza o rimozione ai sensi della legge del Presidente, l'Ufficio di Presidenza legato e si procede all'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza ai sensi del successivo comma. Esatto. Perfetto. Non c'eravamo richiami a questo articolo qua, vero? Perché quello numero del sesto l'abbiamo cancellato. C'era. E' stato tolto. E' stato tolto. Perché c'era quel rimando del comma S, comma 6, no? Un rimando ce l'abbiamo all'articolo 21, anzi facciamo. Il rimando è per il dopo, cioè c'è rimasto in sospeso quella parte tra parentesi del comma 2 del articolo 16, che poi ha messo nelle capi gruppo. Nel 21 è il capo gruppo. Adesso quando ci arriviamo, lo mettiamo. Va bene, andiamo avanti con il 18. Il Consiglio del Municipio, allora comma 1. Il Consiglio del Municipio per l'esercizio delle sue autonome funzioni si avvale dell'Ufficio del Consiglio, dotato di autonomia funzionale, tecnica ed amministrativo e posto alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Presidenza. Comma 2. L'Ufficio del Consiglio Municipale è organizzato e diretto dal Direttore del Municipio, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio, sentito all'Ufficio di Presidenza. Ora qua voglio chiedere anche una cosa... L'abbiamo parlato prima. Ne parlavamo prima con milioni. Sulle direttive, forse qui non so se sono proprio le direttive o sarebbe meglio gli indirizzi. È escluso che siano le direttive, le direttive competono al Presidente in tutte le materie. E gli assessori... Nelle materie... Gli è data la possibilità dal nuovo statuto, nei loro materie, per direttive, tu devi indirizzo. E noi la scriviamo indirizzo. Infatti ce l'avevamo scritto. E infatti ha un broco, sulla base quindi degli... Per agente direttive e indirizzi, per agente 1 è la stessa cosa. Però è una messa... Sì, sì, sì. Quindi il 2 viene modificato e viene... L'Ufficio del Consiglio Municipale, organizzato e diretto dal Direttore del Municipio, sulla base degli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio, sentito all'Ufficio di Presidenza. Benissimo. 3. L'Ufficio del Consiglio Municipale assicura i supporti amministrativi e tecnici necessari. A. Alla realizzazione delle iniziative promosse dall'Ufficio di Presidenza o della conferenza dei Presidenti, dei gruppi consigliari e delle commissioni consigliari anche attraverso la trasmissione sul sito ufficiale del Municipio. B. All'amministrazione delle risorse economiche e strumentali attribuite all'Ufficio di Presidenza, alla conferenza dei Presidenti dei gruppi consigliari, ai gruppi consigliari e dalle commissioni consigliari. C. Gli adempimenti connessi allo status e alle prerogative delle consigliere e dei consiglieri municipali, nonché del consigliere aggiunto, i ricompresi e le attestazioni relative allo svolgimento del mandato, la corrisponzione del gettone di presenza, ovvero dell'indennità di funzione, dei rimborsi spese e dell'indennità di missione, la tenuta delle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e alle spese elettorali sostenute, la stipula eventuale delle polizze di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato. La tenuta in che senso? Noi potremmo fare forse un riferimento a quell'articolo sempre sulla trasparenza, visto che oltre alle dichiarazioni relative alle situazioni patrimoniali e alle spese elettorali, possiamo dire cura la trasmissione dei dati relativi al decreto sulla trasparenza? oppure la raccolta, la conservazione e l'invio, la comunicazione, come si può dire? La pubblicazione. E la pubblicazione. Perché poi la pubblicazione fisicamente si pensa in un ufficio web, mentre... Per i direttivi del ufficio. Quindi io invece che dichiarazioni a patrimoniali e spese elettorali metterei la... Gli adempimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33 2010. Gli adempimenti di cui al decreto... No, all'articolo 14 del decreto legislativo 33 2010 2010. Io farei una lettera a parte però, perché se no così gli adempimenti già stanno messi sopra. Ah, è troppo lungo la lettera. Eh, allora facciamo la lettera D. No, io farei... Aspetta, la stipula eventuale delle forze assicurazioni che usi rischi un senso di spese elettorali, del mandato lo lascerei con la lettera C. E farei una lettera D apposta dagli adempimenti di cui l'articolo 14 del decreto legislativo 33 2010. Sì, ma in realtà sono due funzioni distinte, perché uno è il gestione di presenza, i permessi, secondo me qua che non ha nulla a capire di... Allora facciamo la lettera D. E' meglio isolarlo. Facciamo la lettera D. Quindi, la lettera C viene tolta dalla parte della tenuta 6 dichiarazioni... La lettera D è esatto, quella parte della sostenuta con... Fino a sostenute. E poi la lettera D? La lettera D diventa gli adempimenti di cui all'articolo 14... Agli adempimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33 2010. Esatto. Scusate, c'è un disinflusso all'articolo 17. Al comma 3 nuovo. L'uffugio di presidenza la L va a minuscola. Scusate, ma... Vabbè, allora a proposito di Refussi, c'è anche qui al comma 4 dell'articolo 16 il presidente, bisogna fare la L minuscola perché lì c'è scritto I, I, proprio di battitura. Dove? Sì, qua. Invece è il, quella non è una L, è una I maiuscola. Eh sì, ma... Dove, dove? Qua. Va, c'è una I, I, I. Invece bisogna scrivere il, quando poi lo riscrivi nel file. Sì. Da Corinti. Da Corinti. Se parliamo più. Adesso c'è... Ma poi li saldano tutti. Andiamo. Allora, articolo 4 e coma 4. L'ufficio del Consiglio Municipale espleta, altresì, le funzioni di segreteria del Consiglio ed assicura al Presidente e all'ufficio di Presidenza l'assistenza necessaria ai fini della formazione dell'ordine del giorno, dell'esame e dell'esitazione delle proposte. Esitazione. Esitazione, questa non so, mi sembra un po' brutto, però... Sembra che... Che facciamo? Ai fini della formazione... Nel senso dell'esito, però... Esatto. Esitazione delle proposte. Nel senso dell'esito, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Esitazione delle proposte. Ma, in realtà, che vuol dire esitazione delle proposte? Rispetto all'esito, credo io, l'esito dopo, le cose che succedono dopo una proposta, credo io. Che è l'ufficio, no? Sì, sì. È la funzione dell'ufficio, per cui è l'ufficio del Consiglio dei Presidenza. Formazione, esame e tutto quello successivo alle proposte. Ma quello che viene dopo. Ma se lasciassimo proprio dell'esame nelle proposte... No, l'esame nelle elementi successivi. Escriviamo allora degli elementi successivi. dell'esame e degli eventi, si, dell'esame delle proposte e relativi, 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 esitazioni quelle vuol dire, però è veramente brutto, si usa un termine giuridico preciso, certo è inisuale però, è inisuale, però se mi dici che vuol dire, ma quello l'avamo, 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 no, 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 il significato italiano l'avamo capito, grazie, l'ex presidente di Dionisio, eh, cercavamo un modo, vedi i sinonimi sul computer, cercavamo i sinonimi lì, ma no, trovi indecisione, eh allora no, esitazione, non come esitazione, vedi un po', vedi un po', vedi un po', ma adesso dai, forza, mentre che, ma avanti, tu guarda, mica devi seguire per forza, no, 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 io devo seguire tutto, invece qui io, ce l'ho a, Io scriverei dei relativi adempimenti successivi. Io ho torto qua perché stai a parlare del Consiglio del Consiglio e tu hai piaciuto di rimettere un'altra cosa. Alla fine? Alla parte in blu. Alla parte in blu, le attività del Presidente del Consiglio ce l'hanno voluto aggiungere a che serve? Finisci con l'Assemblea. Aspetta, della consegna, della documentazione, nonché di ogni altro adempimento connesso. Sì, sembra proprio una cosa messa lì, capito? Connesso. Vabbè, in realtà le attività del Presidente potrebbero anche essere diverse, però non so quali. Oltre che quella d'assistenza a te, fa quella a parte del Consiglio, perché dici che non li mette l'altra volta a te alla fine, no? Cioè tu dici che toglie l'attività del Presidente del Consiglio, cioè di chiudere l'Assemblea praticamente. Allora, le iniziative promosse dall'Ufficio di Presidenza e dall'Ufficio di Presidenza... Allora, se tu vuoi fare il Presidente, ce lo metti qui, all'analizzazione delle iniziative promosse dal Presidente del Consiglio dell'Ufficio di Presidenza, lo metto qui e poi ci aggiungi una cosa di rispondere, così... No, no, lo togliamo. Ma se tu parli a voce, lo sei scordato e dici, oddio, posso scordare il Presidente del Presidente, lo scrivi mentre appunto... Va bene, milioni! Ok, hai trovato l'esitazione? Ma non l'ho nemmeno ricercato, dai, abbiamo trovato la soluzione. Allora, la situazione è sempre promossa dal Presidente. Ok. Aggiungiamo lì che serve un po' sopra. Benissimo, qui allora. Quindi allora, scusate, questo, l'ultimo comma, praticamente viene chiuso ad assemblea... Assemblea appunto, invece alla lettera A del comma 3, alla realizzazione delle iniziative promosse dal Presidente, virgola, dall'Ufficio di Presidenza o dalla conferenza del Presidente. Così hai messo a posto. Quindi alla realizzazione delle iniziative promosse dal Presidente, virgola, quindi ok. Allora, a quel punto invece di O, scriverei E, oppure virgola, dal Presidente, virgola, dall'Ufficio di Presidenza, virgola, dalla conferenza di Presidenza dei gruppi e dalle commissioni consigliari, senza O, perché così facciamo tutte virgole, è una bella lista. Bene. Dal Presidente, virgola, dall'Ufficio di Presidenza, dalla conferenza di Presidente, gruppi e consigliari. Alla fine di ogni lettera scriviamo punto e virgola per quando si passa alla lettera dopo. Punti e virgola. E all'ultima lettera, appunto, facciamo poco. Punti e virgola, punta e virgola. Ok. Puri qui ci stanno. Punti e virgola. Articolo 19. Io articolo 19 lo metterei quando parlo qui, gli atti del Consiglio, prima di questo qua. Ma spostarmi in avanti? Eh sì, perché ha già potuto compare il direttore e non abbiamo ancora esaurito, diciamo, tutti gli organi. La costruzione di Fusci. Questo qui va posticipato. Va messo qui, anzi del Consiglio. Quando finisci che fai gli atti, fai le derivi per tutte, no? E sedute. Quindi per il momento io metterei tra parentesi, va spostato e decidiamo quali loro. Sì, perché compare, diciamo, seguendo la logica della strutturazione funzionale degli organi politici. Sì. Siamo partiti dalla... Lo vediamo dopo quando lo mettiamo. Nel senso che... Parlando del direttore... Certo. Infatti ho detto, a me sembra proprio la cosa, a limbrire il direttore, perché lo metti qua. Va bene, allora questo il 19 lo lascerei per il momento, cioè non lo andrei a discutere per niente. Il 19, poi lo mettiamo successivamente. Forse era stato messo qui perché nel coma 3 si parla con il direttore mediante l'ufficio del Consiglio Municipale sovrintende alle funzioni di segreteria, eccetera, eccetera. Quindi forse la vicinanza era legata a questa funzione di direttore riferita un po' come a... Ma perché poi anche in effetti al coma 3 si dice, il direttore del municipio svolge... Allora, il regolamento del municipio, c'è il regolamento del municipio, della giunta e degli uffici. Nel regolamento del municipio, secondo me, dovrebbe anche parlare del direttore, se non... E però che c'è scritto... Che insieme all'ufficio di lette di venute dovrebbe essere sotto... E allora noi possiamo anche fare un coma nuovo dell'articolo 18 riguardo l'ufficio del Consiglio, eh? Esatto. Scusate, non te rotto. No, 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 cioè invece mettereci il direttore come cosa, il direttore qua, se per quelle funzioni è il direttore... Anche perché sono delle funzioni... Ma vuoi dire di far diventare, scusami. Sì, no, no, ripeto, in realtà, ribadisco quello che è stato già detto, in realtà non sono le funzioni del direttore del municipio, sono le funzioni del direttore del municipio in relazione all'ufficio... come sovrintendente dell'Ufficio dei Segretari del Consiglio, un articolo non c'è assenza proprio. Anche perché al comma 2 dell'articolo 18, quello che abbiamo appena analizzato, si dice che l'Ufficio del Consiglio Municipale è organizzato dal direttore del municipio sulla base, abbiamo detto, degli indirizzi impartiti, quindi già qua si fa un riferimento dal direttore, quindi noi potremmo o fare un ulteriore toma dell'articolo 18 e far diventare praticamente il comma 1, 5, 6, 7 e così 3, 4 e 5, dopo il 2, il 2 dice che l'Ufficio del Consiglio Municipale è organizzato in diretta dal direttore del municipio sulla base degli 2, 3, 4, 5 e questo diventa 6 e 7, vediamo se siamo d'accordo con le cose, leggiamolo allora, lo mettiamo là e vediamo come c'è lo metto. No, veramente bisogna soltanto cambiare l'articolo 18. Allora, aspetta, per la verbalizzazione facciamo per Patrizia, allora, chi ha questo Patrizia? Aspetta, leggiamo, scusate, ti posso suggerire? Sì, leggiamo che se poi c'è l'articolo 18. Allora, un attimo, non verbalizzi niente di questo, un attimo solo, poi prima lo mettiamo a posto. Allora, leggiamolo. Il direttore del municipio svolge nei confronti del Consiglio Municipale obbietti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica o amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il direttore del municipio, ovvero in caso di sua assenza o di impedimento altro dirigente o funzionario di categoria D, appositamente delegato, partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, espletando le medesime per il tramito del Presidente del Consiglio. Perfetto. Tre, il direttore del municipio, mediante l'ufficio del Consiglio Municipale, sovrintende alle funzioni di segreteria del Consiglio, cura la verbalizzazione delle sedute consigliari e provveda agli adempimenti necessari ai fini della pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate dall'organo consigliare. 3, 4 e 5. Allora, 1 e 2 rimane così, poi c'è 3, 4, 5, questo diventa 6 e quello diventa 7. Allora, praticamente i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 19 diventano 4 e 5 dell'articolo 18. e l'attuale 3 e 4 diventano 6 e 7. In realtà non era stata convocata ufficialmente, se ci siamo c'era una questione a discutere in ordine alla sicurezza e vediamo se c'è un'altra questione, se siamo tra noi però se non c'è oddo, vabbè, io non l'avevo convocata ufficialmente, sinceramente, ci avevo pensato, ieri era arrivata una comunicazione in merito alla richiesta della... Ma andiamo dopo, dopo... E gli attuali 3 e 4 dell'articolo 19... Adesso e mai al volo, ma era una questione molto rapida... C'era la questione della sicurezza, dell'ordine pubblico eccetera, erano 5 minuti, 10 minuti di questo... se non lo decide l'ufficio di presidenza come abbiamo detto qui... se non ci pensa soltanto l'ufficio di presidenza in merito a carattere organizzativo e amministrativo... Ok, Patrizia... La zana era a scadire 5, si è presa male... Andiamo avanti... Allora, articolo 20... Proviamo a fare il 20 così poi... E vediamo... Sì, vediamo... 10... Allora... Facciamo il 20... Allora siamo pronti? L'articolo 20... Chiudiamo... Andiamo avanti... E per 20... E per 20... Non voglio rallentare i lavori... No, no, per carità... Non sarebbe... Non è tua abitudine... Mai... Allora... L'articolo 20 tra l'altro praticamente è stato ripreso dall'articolo 21 del regolamento del Consiglio Comunale... Quindi va a procedo con la lettura perché è stato preso da quello... Non dovrebbero esserci credo... No, però... No, no... Naturalmente... Allora... Ogni consigliere e consigliere appartiene ad un gruppo consigliare... Entro dei giorni dalla prima seduta del Consiglio dei Municipi... Ogni consigliere e consigliere indica al Presidente del Consiglio il gruppo del quale intende far parte... Scusa, cerco subito un attimo... Sicuramente... Tre giorni dalla prima seduta del Consiglio... Scusa? Da quant'ora si... Secondo me è comunque dall'atto di nomina... Esatto... Che poi viene deliberato per il regato, no? No, perché fino a che non abbiamo fatto la prima seduta i consiglieri non sono neanche programati... Non sono programati... E quindi è come se non esistessimo ufficialmente... Come... Ci potrebbero essere nella prima seduta, no? Tutte cose... Di contrattità... E' uguale... In due giorni dalla prima seduta... Va bene... Perché... Perché lì c'è la programmazione, l'insussistenza delle cause, l'inlegibilità... Ho capito... E quella... Ratifica il fatto che i consiglieri non ci sono... Diciamo... 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 E così via... Da quel momento... Però... Quando noi siamo arrivati... Allora... Qui bisogna capire un attimo quello che abbiamo fatto all'atto dell'istituzione di questa consigliatura... Si... Quando noi siamo arrivati in... C'è stato chiesto... C'è stato chiesto... Quella che abbiamo adottato nell'istituzione di questa... L'abbiamo fatto subito dopo... L'abbiamo fatto subito dopo... L'abbiamo fatto subito dopo... No... Entra le altre cose... Fummo chiamati... Vi ricordo... Almeno a me... Fummo chiamati dalla segreteria del Consiglio... Proprio per... Prepurarci di venire qui in... Ma perché nel caso... Ma lì però bisognava essere sicuri che stesse ancora opposizione che era ripassato già maggioranza... Ma lì bisognava firmare l'accettazione della... 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 Dicevo... Lì era da accettare... Per firmare... Per essere stati eletti... Poi dopo la proclamazione... E il gruppo... Diciamo... A questo punto uno... Il gruppo potrà dire pure... Te lo dicono da dopo... Tu puoi scrivere pure subito... Entro tre giorni... E' il termine ultimo diciamo... Perfetto... Entro tre giorni... E' il termine ultimo... Volevo preparati insieme da lui... E' il termine ultimo... E' il termine ultimo... E' così... Vorrei dire... Delle due... Forse... Io darei questa... Che è copiata... No... Era semplicemente... Per chiarezza... Chiarire... Che... Allora... Non so se sta scritto dopo... Perché questo... A me va benissimo... Vuoi vedere... Si può scrivere... Entro tre giorni... La prima seduta del Consiglio Municipio... I consiglieri che ancora non abbiano fatto... Dicono che il gruppo stanno... Altrimenti vengono... Ma no... Ma scusate... No... Lo vuoi dire... Perché il termine... Altrimenti va d'ufficio nel gruppo misto... No... Si... Chi non sceglie... Si... Ma dopo viene scritto tanto... Allora... Ci sarà scritto dopo... Si... Scusate... Era una sottolineatura che io... Mi sembrava giusto dover fare... Perché la modalità scelta... All'altro di situazione di questa consigliatura... Era leggermente diversa... Cioè noi siamo... No... No... Perché noi siamo... Allora... Perché sempre dentro tre giorni te l'hanno chiesto... Si... Ma dentro tre giorni... No... 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 Lo tensiono era per firmare... Te neanche come si era altro dopo... Thrones... Ecco, cosa è così, l'ho scelta... G Seo. Che è? Però anche qui... Andiamo avanti... Andiamo avanti... Capito... Quella era per accettare e firmare... C'era il messo comunale... E tutto il resto... Ok... Per quanto riguarda... Sono scegliere il gruppo... Massimo dentro tre giorni dopo la prima... Va bene così? Assolutamente... Ti senti... Quelli che subentrano dopo... Gli anno pikem fa? Gli danno cinque giorni... Quindi io ti dico i tre giorni che ti danno... proprio residuale perché era restituto fa prima non era una critica 3. Consiglieri che entrano successivamente a far parte del Consiglio indicano al Presidente entro 5 giorni la data non valida a quale gruppo intendono adeguere io devo dire i consiglieri perché così consiglieri a peso poi a un certo punto regoliamoci su questo fatto di consigliera siccome c'è la normativa quella sulla rispetto delle quote di genere che prevede che ci sia un'indicazione maschile e femminile poi li prenderemo, per ora adottiamo la consigliera e la consigliera e quindi mettiamo i consiglieri e le consigliere che entrano successivamente e allora prima le donne è giusto se lo abbiamo fatto facciamo precise e fatemi la consigliera e consigliera 4. Ciascuna consigliera ed ogni consigliere può appartenere ad un solo gruppo consigliare 5. Le consigliere e i consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto 6. I gruppi consigliari ad eccezione di quello misto sono composti da almeno due consiglieri i gruppi possono essere composti da un numero inferiore di consiglieri nel caso in cui siano anche espressione di una lista che abbia partecipato con propri contrassegni alle lezioni del consiglio municipale o che sia espressione di una lista o partito politico rappresentato io ce l'ho sentito solo lista a parte che non aveva senso una lista pure a me ti dicevano una lista no, no io ce l'ho io occupo di no che? a me si fermava al punto l'espressione di una lista l'espressione di una lista direggimi che te lo dico il comma 6 a me si ferma la frase al punto una lista invece io tu no, qui c'è una lista o partito politico però partito politico rappresentato c'è una versione diversa anche per capirlo mi posso sapere in caso in cui sia un'espressione di una lista che abbia partecipato con propri contrassegni alla lezione del consiglio municipale o che sia espressione di una lista eccetera eccetera ne è la stessa cosa i gruppi possono essere un posto il nome del Consiglio del Consiglio Municipale che abbia partecipato con le elezioni del Consiglio Municipale o che sia espressione non è una ripetizione o c'è una specificazione o è esattamente quello che ha scritto quattro parole prima no questo è sbagliato tu non stai qui ma stai al Parlamento c'è una lista che sta presentata al Parlamento qui è scritto partito politico rappresentato a livello scelta civica ma io non credo qui ci potrebbe essere un gruppo di scelta civica con una persona sola ma io non credo scusa ma qui che dice oppure ci potrebbe essere una lista qui anche il regolamento del Consiglio comunale dice soltanto così esplicitato di una lista che abbia partecipato con i propri contasini in elezioni del Consiglio Comunale punto poi parla del candidato alla carica di sindaco io lascerei così e basta è chiaro che poi ci sono regolamenti di carattere superiore quindi il Consiglio Comunale dice così e basta sì però facciamo un esempio pratico allora a queste tornate elettorali hanno partecipato liste civiche per esempio assembramenti e cose Forza Roma diciamo no forse non ha preso uno di noi potrebbe considerare una lista Forza Roma cioè un gruppo legato alla lista Forza Roma beh come Fulvio Accorinti che è da solo Fratelli Italia perché ha partecipato alle elezioni municipali sì ma Fratelli Italia alle elezioni municipali c'era Forza Roma no allora la lista che siete insate che non gli è scattata il seggio che io vado a entrare il seggio non è così e allora togliamole e basta anche qui nel Consiglio Comunale non c'è scritto quindi io lascerei così no ti voglio dire io sono partecipato io mi sono iscritto al gruppo misto perché non c'è Forza Italia al Parlamento però in caso tu è ricandidato anche Presidente è tutta un'altra cosa uno che viene eletto vuole cambiare gruppo sì no? sì non c'è Forza Italia rappresentata qua ma sta in Parlamento non lo può fare perché sei rappresentato in Parlamento questo è lo sbagliato è rappresentato in Parlamento non lo metto ah dobbiamo proprio scrivere però qui nel regolamento del Comune però nel regolamento del Comune non c'è scritto sai chi ha partecipato? mi pare che sta nel testo unico è previsto che tu puoi fare gruppo o se ce l'hai al Comune no? o ti metti in due uno se ce l'hai al Comune no se ce l'hai al Comune no se sei stato eletto tu sei stato eletto o passata la parte non c'è quelle che hanno aderito al gruppo che qui non ha eletto nessuno io se voglio posso aderire al gruppo D'Alemanna a lista civica D'Alemanno perché rappresentata ma perché tu eri candidato a Presidente e quella lista ti appoggiava se cambia la stessa cosa non credo no no assolutamente non credo che tu occupi puoi fare il gruppo della cosa lascia perdermi qualsiasi consigliere può cambiare gruppo in qualsiasi motivo momento cambiare gruppo si ma deve essere espressione allora o deve essere espressione di una lista che ha partecipato al cioè no no che è presente in consiglio comunale allora noi dovremmo scrivere che però non ha vinto l'espressione di una lista che ha partecipato con propri contrassini a direzione del consiglio municipale comunale a livello nazionale con Forza Roma a partecipare aveva preso 20 voti e gli ha scattato il seggio non può essere rappresentato da nessuno allora io ti ho detto invece la lista civica alemanno che gli ha scattato il seggio a Roma qua non gli è scattato io se voglio che cambio gruppo possa passare a un civico con la lista civica alemanno quindi noi dovremmo scrivere con proprio contro il segno allezioni del lino però non solo abbia partecipato ma che allora abbia fatto eleggere un rappresentante perché non basta solo partecipare no fai vedere che hanno scritto io non lo so cioè questo è proprio contro al di là del fatto che poi la legge garantisce certe cose perché la Costituzione garantisce l'assenza di vincolo di mandato per cui d'accordo non voglio far discusi di carattere politico il gruppo misto esatto allora esiste il gruppo misto? cioè secondo me chi non è espressione della lista per cui è entrato il municipio passa al gruppo misto punto secondo me sì noi possiamo decidere questo questo qui te lo dico io tu non sei stato eletto qua ma hai il rappresentante al Consiglio Comunale e lo può fare e questo poi gli rappresentanti al regolamento ci hanno scritto ma questo è che? questo è il regolamento del Consiglio Comunale no ma milioni questo è il regolamento del Consiglio Comunale non lo dice si finisce a punto ecco del Consiglio Comunale però non parla di questo questo inciso qui non lo dice neanche il regolamento del Consiglio Comunale perché ce lo dobbiamo aggiungere noi infatti questo inciso non è presente qui noi abbiamo copiato tutto tranne quell'inciso blu i gruppi consensi di quello misto sono composti davvero tra consigliere tutta la proposta di essere composti tra loro i consigliere e non c'è il regolamento che abbia battito con propri contrassegni all'inizione del Consiglio Comunale punto non lo puoi fare e bah non parla di altre cose nazionali perché noi ce lo dobbiamo scrivere se neanche la cosa non ci aspetto non c'è bisogno che ti dico come la pensano a meno che lo statuto non ha cambiato qualcosa ma io non credo però se ci stanno i simboli che sono presenti sia al governo che al comune uno può fare i passaggi ma se non sono presenti no io ho fatto una domanda specifica qui può essere partito di pirati ad esempio lascia no al governo non c'è saputo di pirati insomma lì in Parlamento in Parlamento c'è la lista dei monti no? ok c'è scelta civica possiamo fare un gruppo scelta civica qui? no secondo me perché non c'è sì lo può fare allora lo possiamo fare per me è una bellazione vabbè come voglio l'antefretto vediamo la prossima volta perché oggi possiamo tenere se c'è una legge allora sì certo se c'è una legge io guarderei io guarderei la seconda te è quello che si fa alla regione che si sono fatti i gruppi alla regione perché alla regione c'era pure Fiorito e Compagnia Bella se no scusate Fiorito lo disattento le leggi la regione razza se la potuto fa l'hanno fatto che si hanno fatto i partiti del grande sud e tutto perché è logico è previsto che si stanno a presentare per me è l'aberrazione è un'aberrazione a chi pure tu sei controlla la tua vecchia pisse perché dice la compagnia che è quella di capisco che ci può essere di senso in questo però stiamo discutendo se è previsto o meno o se ci piace però è lo che usa perché tu c'erai sempre questa tua vecchia pisse e io non ho scusate allora scusate non te lo sto lo che te lo rendi scusate 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 ho una cosa gente ma se è prevista è prevista sono due cose diverse non mi piace ma se è prevista non è che non esiste allora siccome si sta entrando anche in qualcosa di diverso all'elaborazione del testo unico che abbiamo deciso io chiuderei la commissione qui ci riaggiorniamo a partire dall'articolo 20 naturalmente la prossima volta ci informiamo su questa situazione in maniera che poi con leggi alla mano possiamo naturalmente poi procedere con l'articolo 20 grazie a tutti per la collaborazione grazie abbiamo finito? sì alla prossima assemblea